Un nodo da risolvere non da poco in tutti i comuni quello delle assegnazioni degli alloggi popolari agli aventi diritto. A piedimonte Etneo il sindaco Ignazio Puglisi annuncia che l'iter avviato lo scorso anno è giunto in dirittura d'arrivo. Non sono state poche le difficoltà durante il percorso, soprattutto perché molti degli abusivi raggiunti da ordinanza di sgombero vivevano effettivamente situazioni di disagio. Noi abbiamo nel 2015 mandato agli uffici di predisporre la graduatoria per individuare gli aventi diritto all'assegnazione delle case popolari, anche perché c'erano state segnalate tutta una serie di fattispecie di occupazione abusiva che abbiamo fronteggiato, mettendo io emesso 10 ordinanze di sgombero, 9 già sono state messe in esecuzione e in questi giorni abbiamo assegnato gli ultimi 5 alloggi che sono stati liberati. Non è stato facile sia perché è un'unità all'amministrativa abbastanza complessa, ma soprattutto perché ci siamo dovuti relazionare con situazioni familiari anche abbastanza difficili, perché per lo più gli occupanti erano persone che avevano bisogno di avere un'abitazione. Però il rispetto delle regole è prima di tutto, abbiamo cercato di comunque restare vicino a queste famiglie dando anche dei contributi di carattere economico e abbiamo completato questo tipo di attività. Oggi possiamo dire che tutte le abitazioni sono occupate da chi ha i requisiti di legge e non è una cosa di cui andiamo certamente fieri. Continua il controllo sull'edilizia economico popolare da parte dell'amministrazione, però abbiamo fatto un grande passo avanti, un'attività che non era mai stata svolta in precedenza, un problema che noi abbiamo deciso di affrontare e sostanzialmente abbiamo risolto.